Siamo a Salò, qui con me Arianna Zizzoli della BM Consulting. Benvenuta Arianna. Grazie. Alle nostre spalle stanno passando le macchine della Mille Miglia, stiamo seguendo la prima tappa. BM Consulting, società che beneficia delle opportunità date da Fonditalia. Ecco, da quando avete iniziato ad utilizzare Fonditalia e che tipo di benefici ne avete? Ormai sono dieci anni che siamo all'interno del mondo di Fonditalia. Utilizziamo il fondo per tantissima nostra formazione e devo dire che è una grandissima opportunità per noi perché ci dà modo di stare al passo con le novità legate al nostro settore, paghi, contabilità, quindi fiscale e amministrativo. Ci permette di approfondire tematiche che permettono anche di rendere più competitivo il nostro studio. Infatti andiamo a toccare tematiche legate al team building, alla comunicazione efficace, alla gestione del cliente e quindi siamo veramente molto soddisfatti della nostra esperienza. Ecco, secondo te quanto è importante investire nella formazione oggi per poter continuare ad essere competitivi? Direi che è fondamentale. Noi vediamo la formazione proprio come un'opportunità che ci permetterà di crescere continuamente e far crescere il nostro personale, quindi è veramente uno strumento indispensabile. Quindi possiamo dire che continua il viaggio di BM Consulting con Fonditalia a bordo della nostra macchina anche qui per la Millimiglia? Decisamente sì. Molto bene, grazie Arianna. Grazie a lei. Grazie.